amici sportivi amici scommettitori ben ritornati sul canale benvenuti in questo nuovo video ragazzi pronostici della serie a 18esima o 19esima giornata allora allora prima di iniziare a parte che siamo in ritardo perché già venerdì ma comunque volevo salutare tre dei miei nuovi iscritti che sono il vostro matteo ciao grazie mille per l'iscrizione veramente ti ringrazio di cuore poi c'è paolo montanari che si è scritto una settimana fa ciao paolo ringrazio anche a te per l'iscrizione e giambruno bianchi che si è scritto mi pare tra ieri e oggi quindi fresco fresco deve essere il mio ultimo iscritto ragazzi io voglio salutarvi tutti scrivetemi nei commenti come hanno fatto questi tre splendidi ragazzi mi sono iscritto così io vi saluto tranquillamente e almeno voglio rendervi importanti perché la cosa importante del canale siete voi allora iniziamo con Cagliari Milan Milan che a cui io ho dato la fiducia nelle scorse partite con Sassuolo in casa con la Sampdoria ma mi ha sempre deluso oggi quindi va a Cagliari un campo difficile una squadra un po' lo sbando direi 1x barra gol Lazio Napoli Lazio Napoli qua ci sta molto bene un over 2 e mezzo anche perché credo che è vero che la Lazio sta andando benissimo ma comunque battere il Napoli non è sempre una cosa così scontata anche se il Napoli non è nella sua migliore stagione over 2 e mezzo Udinese Sassuolo questa qua è una sfida tra due squadre che sono più o meno appaiate in classifica credo che non si faranno male si accontenteranno di un punto a testa e quindi direi x Sampdoria Brescia è una sfida tra due squadre che cercano punti per la salvezza perdere soprattutto per la Sampdoria ma anche per il Brescia varrebbe proprio come un passo falso io vedo una partita un po' brutta ci potrebbe stare un under 2 e mezzo per i più coraggiosi mettiamo anche l'X Fiorentina Spal ottima occasione per la Fiorentina per tornare a vincere tra l'altro a Firenze dovrebbe arrivare Cutrone se non è già arrivato quindi per me è 1 Torino Bologna Torino che va a vincere a Roma e come sempre c'è quella legge che dice che quando una piccola va in casa di una grande o batte una grande la partita dopo perde tra l'altro il Bologna è un'ottima squadra tra l'altro il Torino ha giocato ieri in Coppa Italia andando ai supplementari qui ci sono tutti i presupposti per i quali la partita possa finire x2 quindi x2 Verona Genoa altra partita difficile perché comunque il Verona si sta comportando molto molto bene direi che è favorita il Genoa però si è appena ricaricato battendo il Sassuoli in casa per 2 a 1 in panchina c'è Davide Nicole non Ballardini come avevo detto nel scorso video che è un bravo allenatore devo dire un ottimo allenatore io spero che diciamo possa dare al Genoa quello che che gli serve per fare punti e salvarsi secondo me potrebbe starci un x Roma Juve questa è una partita secondo me da over 2 e mezzo anche da gol per chi vuole rischiare diciamo che la Juve secondo me avrà un'ottima quota della vittoria fuori casa penso che sarà intorno al 2 ecco ipoteticamente quindi è un'ottima quota per chi vuole 2 Parma Lecce Parma Lecce sfida tra due squadre che il Parma ne ha appena prese 5 ragazzi eppure si trova in classifica al settimo posto non so come faccia questo Parma una sfida da over 2 e mezzo barra gol e qui concludo ragazzi dicendovi come sempre di non scommettere tutte le partite andate a vedere i miei video che parlano di come fare le vostre schedine uno si chiama tre metodi per scommesse vincenti l'altro si chiama scommesse vincenti il metodo al raddoppio mi ero in garbuglietto diciamo va bene ciao a tutti ragazzi un abbraccio ciao